salve a tutti ben ultimo puntato di questa serie su fifa venti con i nostri accademici dell'accademica fungente conferenza stampa per la semifinale di coppa allora come possiamo vincere ogni anno e con questi giocatori possiamo vincere ogni anno facciamo allora li asfalteremo non mi sembra il caso il morale avanti finiamo un po' il boletto questo miglioreremo presto ok e andiamo signori andiamo a giocare questa partita con l'ermastad che esso non mi ricordò nella scorsa partita abbiamo giocato con le riserve quindi avrò i titolari riposati benissimo fammi la gestione squadra gestione tutta un po' così ah beh lo vedo stanchino quindi a sto punto mi porto galeano volando a livelli di overall mai visti peccato che si è piantato a terra proprio con non so cosa comunque semifinale c'è alla fine obiettivo primario della champions e vuole poi in secondo campionato e poi come terzo obiettivo c'era però eventualmente l'idea di vincere sta coppa a me non dispiace dai ragazzi dai ragazzi e dai ragazzi eccoci tutto pronto pronti questa partita sei in finale di coppa e romania occupa la cionale cionale comunque ermastad è un avversario secondo me affrontabile era la portata possiamo vincere abbastanza agevolmente si Vabbè Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi No No Meno male Meno male No Calma Calma No 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 Ah Un po' di qua Benissimo Ok Lancio Vabbè Ok Ah Di qua Vediamo cosa fa Boris Niente Portiere L'Erma sta facendo i miracoli Bogle Bogle Vai Bogle Vai Bogle Vai Bogle Tira a sua fascia Benissimo Bene Meton Meton Rengi più Una volta tanto Scarico Benedetti 1 a 0 E a le E a le E a le Signori 1 a 0 1 a 0 Il nostro caro Nicolás Benedetti Ce la sblocca Bene così Signori Bene così Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Bene E sono due E sono due Così Tata 1 2 Una pressa all'altro Bene così Bene così Ho sbagliato pure il tasto Benissimo Bene Direi Che la stiamo iniziando Bene Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Ne hanno un giorno Di là Più attenzio Bogle Bogle Scarico E a le 3 a 0 E a le Segna pure Bayley Figuratevi voi Segna pure Bayley Go del 3 a 0 Bene così Direi che l'abbiamo Già archigliata Sta semifinale E direi E sono contento Della cosa Adesso Evitiamo Soliti Cataclismi Calcistici E portiamo Alla cazzo Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Di là No Per ora Per effetto Benissimo Così Pavon 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 A giro E a le Direi Con questo E definitivamente Archiviata La semifinale Nel intervallo Non so Se mi conviene Fare turn over Non lo so Dice Un nome Uno lo farei entrare Uno Lo farei entrare Che me lo son portato Perché Vedevo Abbe Particolarmente Stanco Mi porto Galeano E a questo punto Galeano Lo faccio entrare Tendo tempo Galeano Lo faccio entrare Non combinerà Nulla Poi Su 4-0 Possiamo permetterci Un inutile In campo Comunque Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Attenzione Beni Mason 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 Io qua Sono scemo pure io Potevo tirare Va bene Va bene Ottima la lettura Del difensore Che ha capito tutto Ha recuperato il pallone È in buona posizione In mezzo Eeeh Pavone Però Qua era difficile Qua oggettivamente Era difficile Sbagliarla Ci sei riuscito Complimenti Pavone Sei riuscito A sbagliare Questo Palla consegnata Agli avversari Hanno ipotecato Praticamente L'accesso Alla finale Nei primi 45 Sul passato Sul piano del gioco E delle occasioni La formazione Ok signori Ok Fine del primo tempo Scusate Un attimo Mi rompe le scatole E' partita Ampiamente dominata A questo punto Sì allora La Bailey E' quello Un po' più stanco Toh Caliano Ti ho detto pure Sulla fascia Avanti Fammi Fammi vedere Dammi un motivo Per Per Contare su di te In questa stagione In quest'ultima stagione Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Ok Mett Mogul Bravo Bravo qui a sbarcarsi Rossi in mezzo Niente Bonis Galeano Attenzione 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 Galeano Attenzione Galeano Vediamo Vediamo cosa inventa Ora Andavia Può ricevere Una posizione Interessante Vediamo Cosa fa Ora No Bene Bene così Ragazzi Stiamo Vabbè Stiamo vincendo 4-0 Però io non calerei La concentrazione Così io Continuerei A star concentrati Almeno per un po' Anzi Dico per un po' Tutta la partita Deve stare concentrati Qua Non si sa mai Si riprenderà Con la rivestita Eh Al Terzino Perché i miei terzini Non ci sono mai Perché i terzini Nei non ci sono mai Ai 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 Angelinio Dove sei Porca miseria No E Quella E Ma Eh si Vabbè E niente Noi Per forza Non un gol Dobbiamo subirlo Sempre per forza Non un gol Dobbiamo subirlo Sempre per forza Non è che Si scappa Eh Siamo iniziando Sempre per forza Eh vabbè Vabbè Ok Cariano Lascia un po' In mezzo Intunzione Ma chi è Baccaio e coach Allora di tuffo In testa di tuffo Va bene Qualcuno ci può andare Per favore Please Ok Scusate Va bene Qualcuno ci può andare Va bene Eh niente Non Non Si hanno smesso Completamente di giocare Per fortuna La partita è già bella Che è chiusa Cioè Ormai siamo Cioè 30 secondi alla fine Vinciano 4-1 Ok Va bene Però Signori Conquistiamo anche Stanno la finale Di coppa nazionale Bene Così Bene Così Bene Così Allora Andiamo Di intervista La solita Intervista La prima partita Giocheremo contro la vincente di Botosani Dinamo Questa almeno la coppa nazionale Poi Allora Un'impresa incredibile Addirittura Proprio Incredibile Medio di tutti i complimenti È stato straordinario E ci sono Perfetto Ora Ministra Grazie Per avermi Dato Il prezzo Il tuo impegno Ok Poi Andiamo Alla partita Con la steawa Che qua È ultimo Fermi tutti Vitorullo Ha perso Fermi tutti Che il vitorullo Ha perso Fermi tutti Che il vitorullo Ha perso Ci penserò Fermi tutti Il vitorullo Ha perso Fermi tutti Che il vitorullo Ha perso Il vitorullo Ha perso Qua possiamo Staccarci Possiamo dare Uno stacco Dai Dai Ancora più Importante Vincerla Dovremmo farlo Con le riserve Ma è ancora Più importante Vincerla Allora Direi Montens E Cristea Dov'è Cristea Cristea Eccoti Poi Sulla destra Mi viene il freddo A pensarci Ma Danilo Sulla sinistra Per fortuna Abbiamo Raducano Che ora è diventato Più alto Doverolla Rispetto a Angelina No Non so Vediamo Dove Diventa Titolare Oppure No Se è il caso Ci rifletteremo Strada facendo Nel campionato Poi Direi Gereira Cosimen Aben Qua come attacco Ci portiamo Galeano Egea Egea Posto di mail Qua Polennoti Sì Sì Invece Sì Poi Benedetti Ah beh Qua I soliti Allora Dov'è Costin Brozovic E Sorensen Ok E direi che ci siamo Direi che ci siamo Siamo in riserve Dai da vincere E' veramente importante Vincere Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Eccoci Eccoci Gara Importantissima Direi quasi Fondamentale Il Viterun l'ha perso E abbiamo noi La possibilità Di staccarci Di tre punti Di riprendere Il comando Solitario Della classifica Qua non c'è No di sì Playoff Scudetto Signori Credo che Un'opportunità Più unica Che rara Non facciamoci A sfuggire Eh fuoriggio Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Ripartiamo Cecchini Ok Dira sulla fascia Abe 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 Non c'è nessuno C'è nessuno Nuovo giro Ehi Tornato Il portiere Trecciolone C'è qua Ne ho dimenticato Ferguson E niente E niente Ok In the men's In tutto E' raffressato Ma è riuscito La stessa A indirizzarla Una Quella Inquadrato Lo specchio Bravo Fa niente Dai fa niente Vincente Ma è giusto fermare il gioco E' buonissimo Qua l'assistente a segnalare la posizione di offside Qua l'assistente Ok Bene Bene Uff O si man Io si man 1 a 0 E a lei E dai O si man 1 a 0 Bene così Bene così Bene così ci voleva sto gol Ci voleva Ci voleva tantissimo Ci voleva tantissimo Bene Grande o si man Grande o si man Grande o si man 1 a 0 E adesso signori dobbiamo portarla a casa Non dobbiamo buttarla via questa Non dobbiamo buttarla via Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Abbiamo ricominciato a non rispondere ai comandi Eh Va bene Va bene Va che tu Va che Oh 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 Meno ma Bravo ripano Bravo ripano Eh si Vabbè Dai con te se tu No 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 ragazzi No ragazzi No ragazzi Stai dicendo vero Ma state dicendo vero Ragazzi Stai dicendo vero Così Questo Allora Vi da Pesta ragazzi Sugli esterni Pemmer cross Kim Pemmer cross Tiru Ti Puglio Tagli armata Contro La testa Golf Della vita Palla buttata via Eh Ah Ah Ho fitto Non riusciamo a chiuderla Non riusciamo a chiuderla In the man's Eh Ale 2 a 0 Grande simen di testa Finalmente 2 a 0 Bene così Bene così signori Bene così E io sbaglio sempre il tasto Mi dovete scusare Sbaglio sempre il tasto Oh Allo scadere Su 2 a 0 Ci voleva Ci voleva tantissimo Bene così Ah Bene così Adesso Mi raccomando signori Non Sfettiamo tutta l'aria Portiamola a casa Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Vabbè che tra l'altro Verro lo scadere Sta finendo Il primo tempo Sta finendo E allora Ah beh Di là Fine Fine Primo tempo Fine Primo tempo 2 a 0 Tutto un amato buono Come punteggio Considerando che la steava Che quanto ci faccia penale Solitamente 2 a 0 Mi sembra più che buono Ah vero Non è utile Che per risolvere Perché già so Che il vitorullo ha perso So già che il vitorullo ha perso E quindi In questo momento Siamo primi A più 3 Dal vitorullo Vediamo un primo vantaggio Importantissimo Anche perché non so Se e quanto Il vitorullo ancora Si arresterà In qualche maniera Comunque Vediamo che lo riusciamo a fare Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi E Manda via Fegus Bravissimo Ripartiamo Fereira Ok Qua Belle Abe 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 E Ale 3 a 0 Bene così Direi che l'abbiamo chiusa Direi che l'abbiamo chiusa Bene così Dai Bene 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 Quindi direi Allora se arriviamo così A sessantesima O se riusciamo a fare Un quarto gol Tornopera Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Eh Vabbè Di nuovo eh Danilo Danilo dove sei? Danilo Eccoti Danilo Alla buon'ora Alla buon'ora Dai Bene Bene Ok Ferreira Ferreira Non c'è nessuno Ferguson Posizione Posizione ideale Possibile E' anche fuori gioco E' anche fuori gioco E' vabbè Comunque Cambi Comunque cambi Allora Quelli più stanchi Polenta Polenta Galeano E Sorensen Avanti Boh Ok Galeano Benissimo Oh Guarda la Galeano Fai Galeano Ma bravo Galeano Bravo Galeano Signore Bravo Galeano Bene 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 così Bene 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 Oh Puoi vedere che magari magari giusto nel finale di questa carriera nel finale di stagione Galeano riesce a dare il suo contributo utile alla causa Chi lo sa Vedremo Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Ok Galeano Galeano Lancio Ferreira 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 ancora Ferreira In Inter Altra parata del portiere Comunque dai Diciamo Possiamo tranquillamente dire che ormai è andata Vittoria Importantissima Iiii Ipottissima Ma Mette Raducano Metticela un po' di forza C'è Porca Vabbè C'è spazio per il cross In mezzo Storto Raducano 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 E qualcuno Sambadi Dobbiamo per forza subire il gol ogni volta E va bene Per fortuna è un influente per l'esito della partita Però Per forza un gol dobbiamo subirlo Insomma E hanno trovato il gol Che non è che stiamo bene Queste Il classico gol della bandiera Buono solo per le statistiche Ormai è finito Ormai siamo ai tempi di recupero Ormai siamo ai tempi di recupero Due minuti Ormai ci siamo Ormai ci siamo Difensivo Non sa più come cercare Di guadagnarsi Un posto La titolare O per lo meno Giocavo che partita Comunque Va bene Bene così 4 a 1 I nostri accademici Si riprendono Il primo posto solitario In classifica Non lo condividono più Con il Vitorul E direi E direi adesso Di andare Diciamo Con lo scorre Con i giorni Alla prossima partita E lì Insomma Puoi salutarci Darci appuntamento A quella che sarà La prossima puntata Che Sarà Così meno E straordinario Ok Mettiamo Allora È stata Una partita Non siamo Secondi a nessuno E Se avessero meglio Segnare prima Ok A posto E go Vinciamo E scendiamo Come valutazione Allenatore Perché Vabbè Io Niente I vincenti Non piacciono Evidentemente I vincenti Perché Scusami Scusami Un attimo Ma Fatemi allenare Danilo Fatemi allenare Danilo Vai Vai Danilo Allenati Allenati C'è bisogno di te Allenati Per favore Allenati Ti prego Allora Allora Andiamo Andiamo A chat Giocatore Si la ringrazio Si ok Tutto bello Si mi fai rispondere Gioco maledetto Mi fai rispondere O ti sei bloccato Mi fai Grazie Prestazionatore Bravo Ferrere Bravissimo Ferrere Ora Andiamo avanti Andiamo Ok Anche per vedere Magari Cosa fa Se abbiamo Modo di vedere No Non abbiamo Modo di vedere Aspetta che se Aspetta un attimo Fatemi vedere la cosa Allora Non tomencire Vabbè Allora Mattei Prodan Vabbè Tanto per Eh Gena di questi Tutta una serie di giocatori Bogdan Stoica Oh porca miseria Vabbè Doru Cosme E La Peppa Tutti adesso State arrivando Sergio Moldovan No Cruditier No Michele Alucanu No Genadie Moldovan Tutti adesso State arrivando State arrivando Tutti adesso Allora In fondo Spero che Inizia in squadra Oggi Tornerai Ma ci vorrà Tempo Calma State calmo Perché C'è C'è bisogno Di te Samuele C'è bisogno Di te Quindi Satti calmo Allora Prossima puntata Prossima puntata Le nostre partite Saranno Dinamo Bucharest E il ritorno Con l'Inter E Vabbè E E E E E E E E Andremo Andando a Finire Detto questo Non Termicemente Saluto Tutti Quanti Voi E La Prossima